C'è anche una donna candidata a sindaco di Caltani 7, il dirigente del partito di rifondazione comunista, Conny Facciana, che in sordina ha già presentato la lista che l'appoggia, i nomi degli assessori ed è entrata in corsa. La Facciana è impiegata del tribunale, mamma di due figlie e una militante di lungo corso. La squadra presentata include Marcella, Valeria Medico, operatrice sociale, alla quale andranno appunto i servizi sociali, Gaetano Piazza, informatico, che avrà la delega su pianificazione, trasporti e politiche ambientali, Mauro Buccheri, docente di storia e filosofia, che si occuperà di scuola, cultura e università.